Dunque ragazzi benvenuti in questo nuovo video, un saluto agli amici di Dominio Bianconero Juventus Women e dunque la Juventus Women appunto che batte in casa del Sassuolo per 4-0 vittoria importante, larga, anche più larga di quello che pensavo all'inizio contro ogni previsione perché il Sassuolo quest'anno sta facendo un ottimo campionato ed è una squadra veramente difficile da affrontare per cui vittoria veramente importante ancora più incredibile il risultato finale considerando che nel primo tempo si era concluso a reti violate 0-0 nel secondo tempo ha cominciato ad aprire le danze è stata Chissana Girelli poi Gernoia a Luco e poi ha chiuso Glionna da segnalare comunque che nel primo tempo la Juventus Women aveva dominato in lungo e largo insomma ha annullato, tre pali insomma veramente una grande prova contro un avversario davvero temibile come il Sassuolo insomma questa squadra sembra che piano piano stia prendendo un po' di fiducia ed è la cosa più importante perché a volte sembrava veramente dopo la Champions ho avuto l'impressione dopo Champions e Supercoppa che questa squadra avesse perso ogni tipo di fiducia con in se stessa e adesso piano piano insomma sembra che la stia riacquistando l'abbia riconquistata anche grazie ovviamente a una vittoria importante al Bozzi di Firenze settimana scorsa che credo che sia una vittoria in uno degli stadi più difficili d'Italia e soprattutto molto molto importante tra l'altro posso dire che sono anche abbastanza non tranquillo ma fiducioso anche per il fatto che la Juventus ha già giocato a Roma, Firenze e Milano controlle e tutte e tre in trasferta quindi attenzione perché al ritorno tre trasferte così importanti le abbiamo saltate non le abbiamo già giocate quindi niente niente male ragazzi chiudo qua questo video ora testa Juventus maschile io vi saluto e vi do appuntamento che al prossimo video ciao